Grazie 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 Dovremmo definire eccensi quali quelli dei tartoni della Disney? Oddio, eccensi Diciamo che non è che siano sti grandi modelli Esempio la Disney Le donne nelle favole Disney possiamo definirle così soavi, così romantiche, così dementi Perché? Prendiamo un esempio Cappuccetto rosso, tre donne e tre deficienti Deficiente la nonna perché voglio dire hai l'età di Matusalemme, non sei autosufficiente Che cacchio vuoi fare in un posto dimenticato da Dio che neanche il nonno di Heidi viene a trovarti Ti fai dare l'accompagnamento e ti prendi un monolocale sotto casa di tua figlia La storia la conosciamo tutti, no? La matrigna incarica il guardiacaccia, uccidi la principessa ma come prova porta nel suo padre Il guardiacaccia ovviamente intenerito uccide un cervo Che poi si scopre essere la madre di bambi, una tragedia La principessa è spaventata quindi inizia a scappare nel bosco Dove vado? Dove non vado? Vede una catapecchia putrescente che si capisce lontano, un mio che non è mai stata Da purità cosa fa? Bussa, le aprono degli acari grossi così che si fanno le panni Dio che si fanno il mondo Dio che si fanno il mondo Dio che si fanno il mondo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti